Siamo collegati anche con Nino Cartabellotta che è il Presidente e Dottore della Fondazione Gimbe, grazie di essere con noi a tutti e tre. Professor Cartabellotta, lei mi sente invece, che cosa ne pensa delle parole mi pare chiarissime, limpidissime che ha detto il Dottor Foresti, l'inventore dell'Api Immuni? Assolutamente d'accordo, ne approfitto per salutare l'amico Luca e questo è documentato di fatto dai numeri, al di là di quella che è la quantità di contatti che non sono stati identificati tramite Immuni, noi adesso ci troviamo in una situazione veramente drammatica rispetto a quello che è il contenimento del primo argine che di fatto era quello territoriale per contenere nuovi casi, che è documentato nelle ultime due settimane da un raddoppio di nuovi casi settimanali, le immagini che noi siamo passati da un 4% di rapporto positivi i casi testati nella settimana che va dal 30 al settembre, al 6 ottobre, al 7% nella settimana successiva, all'11% nell'ultima settimana, questo ha portato all'aumento dei casi da oltre 17 mila a oltre 35 mila a quasi 69 mila, allora si capisce bene che con questi numeri che di fatto accumulandosi settimana dopo settimana ci portano oggi ad avere 142 mila a 739 casi attualmente positivi, qualcuno mi deve spiegare in maniera manuale come si possa fare un tracciamento dei contatti tenendo conto che ogni persona positiva mediamente da 10 a 15 contatti, stiamo discutendo di dover tracciare 2 milioni di persone, quindi è evidente che nel momento in cui va in sovraccarico il sistema di tracciamento territoriale che ribadisco è fatto di una serie di strategie, quelle tecnologiche, quelle delle risorse umane, quella dei tamponi, quella dei tamponi rapidi, è evidente che quando questo scappa di mano poi c'è la seconda diga che è quella del sistema ospedaliero, però dove sta la differenza? Che mentre la prima si potrebbe in linea teorica espandere fino all'infinito, nel momento in cui il sovraccarico arriva nell'ospedale, nelle trepie insensive c'è il problema dei posti letto che una volta sovraccarichi poi determinano un peggioramento degli esiti clinici e su questo voglio ricordare, e qualcuno mi ha detto che sono stato molto duro con questa affermazione, la maggior parte dei decessi che noi abbiamo avuto durante il periodo peggiore, quello di marzo-aprile, è stato dovuto a un eccesso di letalità conseguente al sovraccarico ospedaliero, perché è evidente che nel momento in cui arrivano ogni giorno 100 o 120 pazienti al pronto soccorso che vanno tutti tra ospedale e terapia intensiva, poi purtroppo anche gli intensivisti devono fare delle scelte che sono sicuramente discutibili dal punto di vista etico, ma diventano inevitabili dal punto di vista pragmatico. Mentre recuperiamo il collegamento con Riccardo Luna, devo fare una domanda al professor Cartabellotta, le chiedo una risposta secca, lei poco fa ha detto se il terzo di PCM che aspettiamo fra qualche giorno non sarà rigoroso, ce ne sarà un quarto, lei pensa che veramente dovremmo andare tutti quanti, quantomeno a fare quello che stanno facendo già Lombardia, Campania, Piemonte probabilmente? Guardi, io trovo anacronistiche due cose, la prima è che non ci sia un'informazione adeguata su chi prende le decisioni, sui ritardi praticamente che c'è tra il momento del contagio e il momento in cui noi contiamo i numeri, noi abbiamo due settimane di ritardo, i numeri di oggi corrispondono ai contagi di due settimane fa, quindi ragionare all'inseguimento dei numeri del giorno ci fa stare sempre in ritardo con il virus. La seconda cosa è che evidentemente se noi non facciamo delle proiezioni a due, tre settimane su quella che è la curva dei contagi che in questo momento sta salendo in maniera molto rigorosa, non riusciremo mai a frenare l'ondata di risalita del virus, visto che il sistema di tracciamento territoriale ormai possiamo dirlo saltato in tutte le regioni, vi cito solo due dati, la Valle d'Aostra e la Liguria hanno rispettivamente un caso testato su tre positivo e uno su quattro positivo, è evidente che ci vorranno delle misure di mitigazione. Molto chiaro, grazie dottor Cartabellotta, proviamo a mettere su Giuseppe Quintavalle, il commissario straordinario.